martedì alle ore 20 e 30 inizia il 64esimo festival della canzone italiana di sanremo presso il teatro ariston trasmesso in diretta tv su rai 1 rai hb eurovisione rai italia mentre in radio su rai radio 2 radio italia ed rtl 102 5 ma vediamo il programma della prima serata del festival condotto anche quest'anno da carlo conti insieme al bel gabriel garco a virginia raffaele e madalina genera dieci cantanti big cantano la loro canzone in gara mentre tra i super ospiti spicca una delle più grandi pop star inglesi di sempre elton john autore di canzoni come your sound o blue eyes la presenza dell'icona anglosassone sposato con il canadese david furnish e che divenuto padre grazie all'utero in affitto ha destato non poche polemiche il cantante maître james è atteso come ospite l'artista francese di origine congolese sta spopolando con la canzone esse che tu ma me tra gli ospiti musicali italiani attesi nella prima serata di martedì al festival dei fiori spiccano due autentici big eros ramazzotti e laura pausini il cantante di origini capitoline torna sul palco dell'arisson per festeggiare i 30 anni della sua canzone adesso tu con cui vinse il festival anche tra i big nel lontano 1986 anche laura pausini deve molto al festival di sanremo ed è sempre molto attesa quando torna a cantare sul celebre palcoscenico del teatro ariston ricordiamo che il festival di sanremo lo scorso anno ottenne un buon riscontro di pubblico televisivo sulla carta quello di quest'anno si preannuncia competitivo sotto questo punto di vista avendo in programma oltre alle canzoni anche grandi ospite occhio all'audite musica musica